Ho appena terminato il laboratorio del metodo autobiografico creativo e nonostante sia abituata a lavorare su di me e quindi a mettermi a nudo, ho interiorizzato, ho preso una nuova consapevolezza dei miei blocchi, questo mi è davvero servito tantissimo e magari in altri modi non ce l'ho ancora riuscita, ma questo metodo per me è stato una grande rivelazione e sicuramente mi aiuterà a trovare anche una nuova soluzione. Ciao a tutti!